covid metà popolazione marchigiana vaccinata con la prima dose l'estate pesarese conferma le spiagge libere con servizi anziani e malati d'alzheimer a pesaro un luogo per evitare l'isolamento sport mercato megabox in fermento gli angels conquistano invece i playoff una buona serata a tutti voi telespettatori di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre per rossini news il nostro telegiornale dedicato alle principali notizie della provincia di pesaro urbino e della regione marche telegiornale di lunedì 14 giugno che apre una settimana che salvo sorprese sarà l'ultima in zona gialla per la nostra regione dal 21 giugno anche le marche entreranno infatti in zona bianca come previsto dai dati sempre più confortanti riguardanti contagi ricoveri e velocità di vaccinazione al covid 19 a tale proposito proprio ieri è stata superata la soglia di metà popolazione marchigiana vaccinata almeno con la prima dose circa 750 mila marchigiani l'assessore regionale alla sanità filippo saltamartini ha annunciato che la campagna vaccinale procederà soprattutto con pfizer e moderna in attesa della conferenza delle regioni che chiarirà le modalità di gestione di astrazeneca curiosità oggi si è sottoposta la prima dose del vaccino anche il sindaco di pesaro matteo ricci all'ex arresto di pesaro mentre sempre da oggi la popolazione di coglie al metauro ha potuto cominciare a prenotare il proprio vaccino nel nuovo ab vaccinale di zona che è stato allestito alla casa della salute di calcinelli in via flaminia un punto vaccinale che comincerà le prime somministrazioni mercoledì effettuando le due pomeriggi la settimana appunto il mercoledì e il venerdì tarda invece di un'altra settimana la partenza delle vaccinazioni in farmacia dopo la comunicazione dell'agenzia regionale sanitaria di un rallentamento per motivi tecnico amministrativi della distribuzione delle dosi salvo contro ordini i vaccini in farmacia non si effettueranno prima del 28 29 giugno con una conseguente riprogrammazione degli appuntamenti già fissati attraverso le prenotazioni e ieri per il terzo giorno consecutivo le marche non hanno registrato decessi di persone contagiate da covid 19 si avvicinano così a una cifra sempre più residuale anche i contagi che registrano oggi un rapporto positivi testati dell'1,1 per cento come ogni lunedì susseguente al weekend sono stati pochi i tamponi testati cioè 719 di cui 274 nel percorso nuove diagnosi soltanto tre i casi positivi al contagio in regione due in provincia di ancona uno soltanto in quella di pesaro urbino e cambiamo argomento da questo weekend sono tornati attivi i servizi offerti in 5 tratti di spiaggia libera pesarese tra fiorenzuola sottomonte e baia flamiglia servizi di doccia affitto di lettini deposito di ombrelloni food truck e anche di uno spazio per gli amici a quattro zampe si tratta di un esperimento già proposto durante la scorsa estate e che il comune ha voluto ripetere affidando la gestione dei servizi ai vincitori del bando presentato qualche settimana fa ce ne parla nella prossima intervista l'assessore al rigore del comune di pesaro Riccardo Pozzi l'amministrazione comunale ha deciso di riconfermare quello che è stato l'esperimento dell'anno scorso che ha dato davvero ottimi risultati, è stato davvero tanto apprezzato sia dai pesaresi che dai turisti infatti dall'anno scorso e quest'anno abbiamo riproposto lo stesso modello, lo stesso meccanismo introducendo anche delle novità abbiamo individuato un modo per avere le spiagge più sicure più pulite, più controllate e con più servizi infatti da Fiorenzola con un bel food truck e la possibilità anche di poter noleggiare dei lettini insieme a delle docce che ha messo a disposizione l'amministrazione comunale, dei servizi igienici quella spiaggia avrà finalmente quindi dei servizi e sarà anche più controllata essendo in un contesto davvero spettacolare poi abbiamo qua Baia Flaminia dove finalmente riparte anche il lido per gli animali un lido per gli animali che è stato tanto richiesto anche dai pesaresi e che darà un servizio importante sia per tutti i proprietari di animali domestici ma anche per i tanti turisti che finalmente anche a Pesaro avranno un posto dove poter venire, dove poter venire in modo gratuito sarà possibile anche noleggiare l'ombrellone, proprio una cinquantina di ombrelloni per dare la possibilità anche di garantire l'ombreggiamento all'animale domestico poi abbiamo sotto monte altri due luoghi, altri due poli, centri servizi che si trovano nel tratto lungo di spiaggia libera in particolare tra Maya Bay e lo Chalet nella quale verranno anche qua, sono già state realizzate delle docce e sono stati posizionati dei food truck che partiranno proprio da questo weekend dando quindi la possibilità di dare dei servizi come il noleggio di lettini e infine il primo venendo da Fano, polo di deposito e di affitto di lettini dico deposito perché è possibile anche lasciare in deposito il proprio lettino e il proprio ombrellone a dei prezzi davvero abbordabili e dare quindi la possibilità a tutti di lasciare il lettino e l'ombrellone lì e poter poi usufruirne tutta la stagione del proprio strumento, dei propri oggetti quindi è un modello che l'anno scorso aveva funzionato molto bene che l'amministrazione ha deciso di riproporre e siamo sicuri che anche quest'anno sarà ben apprezzato da tutti coloro che vorranno usufruire delle bellissime spiagge libere di cui Pesaro ha grande ricchezza Confermati ovviamente anche per i tratti di spiaggia libera il servizio del bagno di salvataggio Sì, un servizio di salvataggio che viene offerto da parte dell'amministrazione comunale in tutti i tratti di spiaggia libera, nel fine settimana di luglio e nelle settimane centrali di agosto In più, in alcuni tratti di spiaggia come questo che abbiamo qua alle mie spalle o come anche a Firenzola i vincitori del bando che è stato pubblicato a maggio da parte dell'amministrazione comunale potranno implementare un servizio di salvataggio che andrà a coprire anche i giorni feriali e quei giorni di agosto, oltre a quelli che già venivano offerti dall'amministrazione comunale È stata inaugurata questo weekend nel quartiere pesarese di Montegranaro in via Filangeri la nuova casa di Nonno Mino Si tratta di un luogo rivolto a persone anziane in condizioni di fragilità e a rischio esclusione sociale La struttura sarà gestita dall'associazione Nonno Mino Onlus che si rivolge principalmente ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie Vediamo le interviste realizzate a tal proposito da Daniele Romagna Oggi è veramente un giorno molto importante Realizziamo un grande sogno È il quarto centro di aggregazione sociale rivolto all'anziano fragile che apriamo Sono veramente composta perché questo sogno si è realizzato tramite tante persone che ci hanno sostenuto È un servizio che ha delle connotazioni sociali È un progetto proprio di comunità e di prevenzione È un servizio rivolto alle persone affette dalla malattia di Alzheimer di grado lieve e moderato Ma anche rivolto alla fragilità dell'anziano, l'anziano solo Il servizio sarà aperto lunedì e venerdì dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 18 Ci saranno delle attività all'interno come stimolazione cognitiva, attività occupazionali, musica, terapia e poi uscite sul territorio Vi informiamo inoltre che abbiamo vinto un progetto regionale che si chiama Cittadinanza Attiva Welfare Comunitario Che viaggia un pochino a parallelo con l'apertura di questo centro E prenderemo in carico proprio la persona dall'inizio della malattia tramite un'assistenza sociale E offriremo un servizio completo Cosa significa? C'è proprio un pacchetto completo all'interno del centro di Pesaro Dall'accoglienza tramite assistenza sociale Se la persona ha bisogno di assistenza invieremo dell'assistenza domiciliare Se ha bisogno più di attività stimolanti ed educative verrà qui al nostro centro È previsto anche il sossegno psicologico, la formazione per i volontari, i gruppi di atto molto aiuto Questo progetto si chiama Cittadinanza Attiva e Welfare Comunitario È in collaborazione con la UISP, l'AIMA e l'AUSER di Montelabate Insieme all'associazione Nonno Mino, insieme all'ambito territoriale sociale, all'ASUR Abbiamo portato avanti questo progetto di inclusione sociale Un progetto rivolto alle persone, agli anziani soli Ma anche alle persone malate di Alzheimer È rivolto anche a supporto delle famiglie Un progetto molto importante che è stato possibile grazie al grandissimo impegno dell'associazione Della presidente Bruno Di Berardino e anche grazie al lavoro di squadra Tutti insieme ci siamo impegnati per questo progetto, per questa bella avventura Inoltre è molto importante aver riqualificato un edificio Questo era un edificio del comune E averlo riqualificato ed essere parte importante di questo quartiere Quindi la rete sicuramente si allargerà Con il quartiere, il centro sociale di Muraglia, l'associazionismo E credo che ci saranno tante possibilità e tante opportunità per il futuro Un in bocca al lupo per questa grande avventura E spero che questo servizio possa essere veramente utile per tutta la comunità Ieri sera nella casa Aile di Via Lombroso si è tenuta la prima festa dell'amicizia organizzata dall'Aile Pesaro Si è trattato di una festa dedicata all'impegno di volontari, medici, infermieri, pazienti e amici dell'Aile Riunitisi dopo un anno di impegno congiunto in prima linea a contrasto della pandemia Presenti nell'occasione anche il sindaco Matteo Ricci, gli assessori Giuliana Ceccarelli e Emila Dell'Adora E il consigliere regionale Andrea Biancani Ascoltiamo a tal proposito l'intervento del presidente Aile Pesaro Massimo Sierra Intervistato da Emanuela Rossi Questa festa è nata per un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno dato tanto all'Aile E che in tempo di pandemia non abbiamo potuto ringraziare In primi, qui vedete al mio fianco i miei angeli custodi Dottor Maviglia, Salvatore, medico E mano di fata Pasquale De Padova Infermiere per quanto riguarda l'assistenza domiciliare Ma poi ci sono anche i soci e soprattutto i volontari Per questo è nata questa festa dell'amicizia Finché sarò presidente il mio intento sarà quello di ripeterla il prossimo anno Poi spero che continui Mio auguri è quello che continui Perché è importante capire che i presidenti vanno e vengono Ma l'Aile rimane L'Aile è una cosa sacra Che aiuta le persone che hanno necessità Ed è questo il nostro compito, la nostra missione È stata lanciata a Fano una nuova campagna di comunicazione Per la promozione della città della fortuna Tra brochure, cartacee, digitali, video emozionale E un social media team nuovo di Zecca Si sta dunque lavorando al rilancio del turismo fanese Puntando su cultura, gastronomia E su un modello di vacanza a misura di famiglia Ci spiega tutto Simone Selli Vivila, scoprila, gustala, sentila Sono queste le quattro parole chiave scelte per rendere Fano ancora più appetibile L'amministrazione comunale ha infatti lanciato un nuovo piano di comunicazione Per attrarre sempre più turisti Promuovendo quelli che sono i suoi principali punti di forza Bellezza, cultura, l'intrinseco legame tra mare e dentro terra Ma anche la buona cucina che il nostro territorio è in grado di esprimere È così che si cerca di offrire al turista un'immagine rinnovata della città della fortuna Perché, come suggerisce lo stesso nome del piano di comunicazione Fano è la vacanza giusta Una nuova vision Fano in questo momento è una meta perfetta Perché è una meta tranquilla, è una meta rilassante È una meta che coniuga la bellezza del mare La vivibilità del mare che è nelle nostre zone Con la vicina collina Quindi le dolci colline che si affacciano sul mare È per questo che abbiamo lanciato questo claim Fano è la vacanza giusta Dopo, insomma, il piano strategico di IAC Era importante cominciare a far vedere i fatti Quindi da oggi, anzi in realtà da 20 giorni stanno lavorando Perché la comunicazione ovviamente è già partita Un nuovo social media team Composto da tre ragazzi che lavoreranno sui canali social Quindi Facebook, Instagram e Youtube Ma realizzeranno anche delle newsletter Perché è importante un'interazione tra tutto il mondo degli eventi Il mondo della cultura con il mondo del ricettivo Perché dobbiamo fare massa critica Dobbiamo trasferire tutte le informazioni possibili Dalla nostra città Tutto ciò che realizza nella nostra città Al mercato E per farlo arrivare al mercato turistico Bisogna che anche tutto il mondo del ricettivo Trasmetta ai propri clienti Ciò che viene realizzato nella città di Fano Fondamentale la brochure Sia cartacea sia digitale Che verrà distribuita sul territorio E nelle principali fiere di settore Ma oggi come oggi Non si può di certo prescindere Da una presenza decisa e capillare Sui principali social media In particolar modo ci concentreremo nella produzione di video E di immagini Che cercheranno di far entrare l'utente All'interno di quello che sono le esperienze O la vita Che un turista può fare a Fano Quindi sfrutteremo tutte quelle che sono le nuove Possibilità che ci offrono le piattaforme social Come i Reel su Instagram O le Stories Che ormai sono qualcosa di già vecchio quasi Instagram diciamo che è un canale Che ha bisogno di essere molto rilanciato Per quanto riguarda VisitFano rispetto a Facebook È un po' più avanti Abbiamo bisogno di rilanciare Instagram Perché sono piattaforme utilizzate tantissimo dagli utenti Per capire gli immaginari Che possono trovare nei luoghi che andranno a visitare O nel momento in cui scelgono un post dove andare Quindi quello che dobbiamo fare noi Attraverso Instagram e Facebook Ma in particolar modo ripeto Instagram Con questi Reel Con queste Stories È entrare nell'immaginario di queste persone Convincerli e ispirarli a scegliere Fano come vacanza giusta Su TikTok stiamo ragionando su come entrare Perché in realtà diciamo che la modalità Reel Nasce per contrastare l'ascesa di TikTok Quindi TikTok è nel nostro radar Dobbiamo solo capire un attimo Quali strategie utilizzare per sfruttarlo al meglio Anche a Pesaro Forza Italia Sostiene la proposta di legge di riforma fiscale Che il partito sta caldeggiando in Parlamento Ieri in piazzale con l'enuncio Si è tenuta una raccolta firme Per informare i cittadini Su quella che Forza Italia ritiene la madre Di tutte le riforme Sulla quale edificare una politica economica Che punti sullo sviluppo del paese Sulla valorizzazione del made in Italy E la creazione di posti di lavoro Punti cardine Una riduzione di tasse su famiglie e imprese E soprattutto una semplificazione Del sistema fiscale indispensabile Per una più efficace lotta all'evasione Ancora politica Questa mattina all'Otella Storia di Fano È stato ufficializzato l'ingresso in Fratelli d'Italia Dei due consiglieri comunali Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli Che hanno così costituito Il gruppo consigliare fanese di Fratelli d'Italia Pierpaoli sarà presidente del gruppo Che entra così anche nel consiglio Della terza città delle Marche Per l'occasione erano presenti Il capogruppo alla Camera Francesco Lollo Brigida Il commissario regionale Emanuele Prisco Il coordinatore comunale Loretta Manocchi L'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli E le consigliere regionale Nicola Baiocchi Sabato a Sant'Angelo in Lizola Si è tenuta la cerimonia di riapertura Del Cinemateatro Branca Dopo i lavori di riqualificazione Che hanno richiesto un investimento di 300 mila euro Per adeguamenti sismici e anti-incendio Vallefoglia si arricchisce così di un luogo Attrezzato per attività teatrali Cinematografiche, musicali, sociali e ricreative Domenica 20 giugno alle ore 10 Si terrà la 22esima assemblea elettiva Della CNA di Pesaro Urbino Alla Neomec di Villa Ceccolini Saranno delineati i programmi e strategie per il futuro E rinnovati gli organi direttivi dell'associazione Alla presenza del governatore della regione Marche Francesco Acquaroli Del sindaco di Pesaro Matteo Ricci E del segretario generale della CNA Sergio Silvestrini Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni Che sempre più spesso ci capita Siano incentrate su sconsiderati abbandoni di rifiuti Come quello che vedete nell'immagine Fornitaci da una nostra telespettatrice Che ci mostra questo cumulo di immondizia Che si trova da un paio di mesi In strada della Romagna All'inizio delle siligate Altre foto ci arrivano da una nostra telespettatrice Di Vallefoglia Che ci mostra come in via della libertà Si continui ad ammucchiare immondizia nei cassonetti Nonostante le ripetute segnalazioni agli organi competenti Speriamo come è capitato tante volte Che queste segnalazioni Sollecitino non solo la pulizia Ma soprattutto stigmatizzino questi errati comportamenti Per le segnalazioni a Rossini TV Vi ricordiamo il nostro numero che vedete in sovraimpressione Un numero whatsapp dedicato Ovvero il 370-366-7210 E come ogni lunedì siamo arrivati allo spazio dedicato alle notizie sportive In questa edizione ci concentriamo sul football americano E sull'importante vittoria degli Angels Pesaro che si sono conquistati l'accesso ai quarti di finale Per la promozione in serie A2 Ma spazio anche alla pallavolo Con i nuovi acquisti della Megabox Vallefoglia Emozioni forti E non solo per il gratificante risultato sportivo di prestigio Nell'ultimo atto della regular season di football americano Gli Angels Pesaro hanno battuto 41-14 I nuovi grifoni Perugia Conquistando una vittoria che valsa la conquista Dei quarti di finale playoff Per la promozione in serie A2 Esultanze che si sono mescolate alla commozione Quella di Lorenzo Troisi Che ha sfoderato una prestazione super Segnando un touchdown decisivo All'indomani dell'ultimo saluto a papà Fiorenzo Già, Fiorenzo Troisi Stimato vigile urbano pesarese in pensione Nonché vecchia gloria degli Angels Che era venuto a mancare in settimana La squadra ha voluto onorarne la memoria Dedicandogli un minuto di silenzio prima della partita Il figlio Lorenzo ha fatto molto di più Solcando la svolta del match Col terzo touchdown di partita Seguito a quelli di Calaf e Marinelli Che hanno mandato gli Angels a riposo sul 21-7 Una partita da dentro o fuori Messa in discesa a metafrazione Dopodiché coach Gerbaldi Ha tenuto alta l'attenzione della truppa Accompagnandola verso il 41-14 finale Tra due settimane si disputeranno i quarti di finale Dal football americano alla pallavolo Continua la campagna di rafforzamento Della Megabox Vallefoglia dopo la conquista della Serie A1 La società del presidente Angeli ha annunciato oggi l'ingaggio della 35enne schiacciatrice cubanea Kenya Carcasses Atleta d'utile e di grande esperienza Che conosce già il campionato italiano Avendo militato a Casal Maggiore e Perugia Nel weekend la Megabox aveva ufficializzato anche l'ingaggio della centrale di Trinidad e Tobago Sined Jack 27enne di 1,98 m Con lunga esperienza nel campionato turco, polacco, ucraino e giapponese In questo servizio vi abbiamo dunque dato un assaggio di quello che è stato il weekend del football americano Che però potrete approfondire nella nostra prima serata di domani Con l'appuntamento settimanale del nostro programma sportivo del Mardedì a Come Angels Appuntamento dunque domani alle 21.15 Per quello che riguarda invece l'appuntamento della nostra prima serata di oggi lunedì Alle 21.15 ci sarà spazio per il ciclismo e per l'impresa insieme scalando l'Everest Everesting 8848 Lui e lei uno speciale realizzato in collaborazione con Fisiora di Medical Center Per chi ancora non l'avesse fatto vi invitiamo a scaricare l'app di Rossini TV Uno strumento agile e semplice per avere sempre a portata di click La possibilità di vedere i nostri programmi, rivedere le notizie O semplicemente per inviare segnalazioni alla nostra redazione Ed è davvero tutto per questa nostra edizione del TG del lunedì Da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV Il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi Grazie